Ciao, sono Marco e nel video di oggi parleremo del tema per WooCommerce Overlay. In questa playlist dove ci sono una scelta tra i migliori temi per WooCommerce, quindi per avviare un e-commerce online, iniziamo a vedere quelli che sono alcuni tra i più popolari temi, migliori temi da utilizzare online per appunto WooCommerce, per quindi avviare un e-commerce. La particolarità di questo tema è che è un tema totalmente gratuito, ha anche una versione poi pro a pagamento che andremo a vedere alcune delle future che ci sono in più. Direi quindi di a questo punto non perdere altro tempo e andare un po' a vedere questo tema Overlay. Direttamente sulla directory ufficiale di WordPress troviamo Overlay, questo tema dal design molto semplice e compatto, fruibile e utilizzabile per tutti i device, quindi assolutamente responsive e è un tema che è davvero una delle migliori soluzioni per chi magari sta avviando un nuovo business online o vuole aprire il suo primo e-commerce senza quelli che possono essere ingenti somme di investimento, di denaro per quanto riguarda la parte web. Andiamo direttamente dal sito che comunque ti lascio qua sotto in descrizione, dal sito della directory ufficiale di WordPress al sito dello sviluppatore, vediamo in breve un po' tutte quelle che sono le opzioni che già di base a questo tema Overlay sul Customize di WordPress, quindi tutto quello che è personalizzabile, qui abbiamo un page di demo dove è stata costruita appositamente per fare capire come funziona questo tema. Abbiamo anche il blog, abbiamo poi quelle che sono tutte le varie impostazioni, abbiamo quindi Time Settings con i settaggi principali, i settaggi per quanto riguarda il blog, abbiamo dei settaggi anche per la parte mobile, espressione per la parte mobile, abbiamo tutta una configurazione per quanto riguarda anche e soprattutto WooCommerce, infatti abbiamo vari settaggi per quanto riguarda WooCommerce, per la visione, la struttura di quella che è il catalogo, abbiamo le stesse altre impostazioni per quanto riguarda la pagina del singolo prodotto, guardate quante tipologie di impostazioni abbiamo, abbiamo il My Account, possiamo rimuovere alcune delle sezioni, alcune tab, diciamo dalla pagina My Account, abbiamo anche dei settaggi per quanto riguarda la pagina del carrello, abbiamo due tipologie di design, per esempio, abbiamo anche la stessa cosa per quanto riguarda il checkout e abbiamo anche i colori da poter gestire per quanto riguarda WooCommerce, queste sono soltanto alcune delle opzioni che abbiamo visto per quanto riguarda overlay in versione gratuita, andiamo a fare una breve panoramica di quello che è appunto la presentazione, quindi il sito e la pagina, abbiamo, ricordo che la versione a pagamento costa soltanto 25 dollari, qui abbiamo un po' di spiegazione di come è possibile andare a costruire il nostro e-commerce in pochi semplici passaggi, è un tema che lavora soprattutto col customizer di WordPress che ha quindi la possibilità attraverso il customizer che abbiamo visto adesso di andare a costruire davvero quello che a noi interessa di andare a costruire un e-commerce semplice, veloce, pratico, come ho già detto è assolutamente responsive, lavora benissimo con tutte le tipologie di device, ha ovviamente un'integrazione particolarmente ferrata e preparata per lavorare con WooCommerce come abbiamo già visto, infatti abbiamo diverse impostazioni che abbiamo visto, quindi è possibile andare a integrarsi facilmente con WooCommerce e quindi creare il nostro e-commerce in pochi semplici passaggi, è particolarmente apprezzato dagli utenti, li abbiamo anche visti prima sulla pagina della directora ufficiale di WordPress, non ultimo ma non ultimo abbiamo la possibilità di integrarci anche con quelli che sono i top rated plug-in, quindi c'è la possibilità di integrare e di utilizzare Jetpack, Elementor, Breadcam e Yoast SEO. Qui abbiamo a disposizione la presentazione di quelle che sono le Pro Future, quindi quello che possiamo ottenere acquistando la versione Pro a soli 25 dollari, abbiamo appunto la possibilità di importare altre tipologie di layout già pronti, quindi abbiamo una versione avanzata di WooCommerce, quindi con più impostazioni, abbiamo impostazioni avanzate per quanto riguarda il layout, abbiamo il loader del sito, quindi al caricamento possiamo mostrare un loader, abbiamo il pagination numerico, non con precedente e successivo, abbiamo gli slider da poter gestire, abbiamo lo sticky header navigation, quindi possiamo creare un menu sticky, possiamo personalizzare totalmente il menu mobile, a differenza dal menu quello che si vede su desktop, possiamo avere un menu che ha cascata per quanto riguarda il carrello, possiamo anche creare un area sticky come vediamo la sidebar, quindi bloccare la sidebar e far scrollare il resto del sito come si vede da questo esempio, abbiamo delle icone social aggiuntive per quanto riguarda sempre la creazione del nostro brand, abbiamo una lista per quanto riguarda il controllo di quello che è l'abstract, quindi la parte iniziale degli articoli del blog, abbiamo back to top, abbiamo aggiungi il tuo sito da, quindi build your site by, abbiamo la possibilità di personalizzare la pagina 404, abbiamo la possibilità di aggiungere il copyright, quindi attribuire il copyright, maggiori controlli della SEO, queste sono quelle che sono le future aggiuntive, abbiamo inoltre l'acquisto a single license, quindi una singola licenza a 25 dollari, 5 licenze a 39 e il limitato a 65, naturalmente direi che questo acquisto ci garantisce supporto e aggiornamenti per un anno, quindi direi che è in abbonamento, abbiamo visto comunque come è possibile tranquillamente partire con la versione gratuita di questo tema e utilizzarlo, quindi potrebbe essere un'ottima idea iniziare a utilizzare questo tema in versione gratuita e qualora ci trovassimo particolarmente bene e avessimo bisogno di aumentare quelle che sono le nostre funzionalità del nostro sito, passare successivamente alla versione pro. Bene, direi che per quanto riguarda overlay, per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamo le scritte qua sotto nei commenti, così che magari io posso esserti d'aiuto per quanto possibile, o se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, Elementor, Temi, Plugin e spulciando all'interno del mio canale e non hai trovato quello che stavi cercando, lasciami anche questo scritto qua sotto, così che magari posso trovare qualche altro nuovo spunto, qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nel prossimo video. Ciao! Ciao!